Sì, sì, sì. Oh, dove è? Cazzo, aspetta. Non è chiuso, non è che è chiuso. Eh, calma, calma. Amore. Come mi ha chiamato? Ripeti, come mi ha chiamato? Amore. Oh, oh, oh. Perché? Sì, me l'ho sbagliato tutto. Scusate, me l'ho sbagliato tutto. L'hai copiato! Quando vuoi. Rida, rida, rida. Che facciamo? Eh? Me la dai una mano? Eh, piacere. Iva, Iva, aiutami. Solo tu mi puoi salvare. Vabbè, noi siamo gli animali in difficoltà, sei nel posto giusto, dimmi. Non riesco a parlare con Chiara, non parla più. Non parla più, non mi faccio la scusa. Non parla più, perché è muta. Purtroppo si è calata addosso e... Dico bene, Diego? Benissimo. Eh? Ma che c'ha? E che c'ha? Forza la stanca. Non ho capito tutto della vita. E che è che? Tutti qua. E beh, non ho sentito questo, non ho scusa. Ragazze, però rimaniamo concentrate, eh? Perché non passava di là questa qui prima, eh? Scusate. E poi ti stacco le palle a morsi. Ecco. Brava, giusto. Anche io farei esattamente la stessa cosa se fossi nei tuoi panni, però... Guardami. Ma ti sembro il tipo? No, infatti. Eh? E che mi fai di questo, amore? Mi fai di questo? Scusa, scusa. No, no, no. Non ho dato il... No, no, no. 84, 2A seconda. Vai, va. Azione! Eva? Cosa stai facendo? Sei uno stronzo! Che paroloni! Capitola, capitola, capitola. Capitola! Capitola! Cosa facendo la...